Ho partecipato e vinto il campionato mondiale in Perù e ci hanno premiato quindi anche Carolina a Torino lunedì mattina. È stata una bella cerimonia, una bella emozione perché accanto a me sono stati premiati altri personaggi illustri dello sport piemontese, tra cui anche Attilio Tessera, allenatore del Novara Calcio, per cui è stata una grande cerimonia, sì, bello, una bella emozione. Poi è sempre bello ricevere questi figli? Sì, beh certo, io sono nata in Piemonte, gioco in Piemonte, quindi ho maggior ragione, sicuramente. Ho lasciato con le selezioni regionali? Sì, provinciali, regionali, tutto, ho rivisto alcuni giornalisti, il presidente Ezio Ferro con cui avevo vinto ormai già un bel po' di anni, il trofeo delle regioni, bello, sì, sì, una bella emozione, sono fiera, orgogliosa. Sì, beh purtroppo veniamo da due sconfitte dal punto di vista del risultato pesanti, perché comunque sono il tabellino segna 3 a 0, però non è solo quello, nel senso che tra i 2-3 a 0 c'è il fattore comune che in tutte le due le partite abbiamo lottato su punto su punto, palla su palla e abbiamo perso anche dei sette ai vantaggi, questo vuol dire tanto. Per il resto, beh, comunque, a parte queste ultime due battute d'arresto, diciamo, il resto va benissimo, dal punto di vista mio personale sono contentissima di stare qua, perché si lavora come si è sempre fatto, soprattutto, anzi, con una serenità forse che in nessun'altra squadra, secondo me, si potrebbe trovare una cosa del genere. Si va in palestra ogni giorno con la voglia di imparare cose nuove, di allenarsi, di darci dentro, questo è positivo. Beh, forse sì, perché comunque magari l'anno scorso era il primo anno, non ci si conosceva bene sia con le compagne che con l'allenatore, e invece, diciamo, sì, come hai detto tu, più convinzione, più affiatamento, anche magari, a parte qualche pezzo nuovo, però, che si è già integrato molto bene nel gruppo, no, sicuramente una tranquillità nel lavoro, una serenità incredibile. Chi l'ha sostituita in queste partite è stato, a parte che hanno giocato tutti un po' a posto, quindi, hanno, è stato, anche esatto, a Pesaro oppure io, quindi, insomma, e, quindi, no, no, siamo impazienti di rivederla in campo. Sì, diciamo che le difficoltà che si sono presentate all'inizio del campionato hanno un po' forse cambiato le sorti di quello che potevano essere i risultati iniziali, però, comunque, abbiamo lasciato passare questo periodo, abbiamo, stiamo e abbiamo lavorato molto bene, secondo me, in palestra con Gianni, tecnicamente, tatticamente, senza dubbio, e, quindi, i risultati credo che poi alla lunga arriveranno. Sul campo si vede un gioco, un livello di gioco abbastanza buono e, sottolineo quello che ha detto Letizia prima, che, nonostante, vabbè, le ultime due partite non abbiano reso gloria al nostro lavoro, perché sono stati 2-3-0 abbastanza netti, comunque, i set sono stati giocati alla pari, quindi, a un certo punto arriva, forse, anche un po' di fortuna, entra in gioco e noi l'abbiamo avuta in queste ultime due gare. Sì, noi abbiamo avuto la difficoltà del caso dell'Under 22, abbiamo avuto tre atlete più sani, vabbè, poverina, si è fatta male, che sono andate alla World Cup, quindi abbiamo fatto un mese senza gran parte della squadra. Il periodo successivo è stato un mese in cui abbiamo recuperato le ragazze che erano in Giappone e che, piano piano, si sono integrate, hanno ricominciato a giocare con noi, per fortuna, e che quindi adesso, niente, stiamo dimostrando quello che non abbiamo potuto fare nei primi mesi. Gianni, dopo la partita domenica? Sì, secondo me la sua lettura della situazione è giusta, perché comunque credo che Kate, io non la conosco, o meglio, non ho giocato con lei l'anno scorso, quindi non so come posso essere in campo, ma per quanto posso vedere adesso, credo che il suo peso in campo sia molto consistente, quindi una volta che rientrerà a giocare, definitivamente, credo che potremo fare molto conto su di lei. Durante la sua assenza, è vero, c'è stata la possibilità per molte di noi, anche perché giovani, di dimostrare quanto potevamo aiutare la squadra e quindi dimostrare il valore di ognuna. Io credo di essere cresciuta abbastanza tecnicamente con il lavoro di Gianni, e continuerò a farlo sicuramente. C'è sempre il fatto che tutte e tre le centrali abbiamo un'età giovane, 20-21 anni, e quindi l'esperienza è per tutte e tre circa la stessa e ogni tanto bisogna cambiare le carte in campo e quindi è normale che ci siano dei cambi che, se possono favorire la squadra, è giusto che avvengano, che ci siano, senza problemi. Qualche domande per Laura? Sicuramente il fatto che siamo tre centrali intercambiabili è una cosa stimolante, perché, ripeto, siamo tutte e tre giovani e quindi il lavoro che si fa, lo si fa insieme, sapendo che ognuna ha delle difficoltà come ognuna ha dei pregi. e cerchiamo di riempire, probabilmente, quei vuoti che si possono creare durante le partite, perché probabilmente una non riesce ad entrare in gara o cose del genere. Ripeto, io sono migliorata tanto, credo, con Gianni, sia a livello tecnico, quindi sul muro, piuttosto che il fondamentale di attacco, sia come lettura di gioco, perché il gioco che crea lui non è facile star lì dietro, ovviamente, quindi credo di essere cresciuto anche tatticamente. Chi è che non gioca per vincere? No, certo, però c'è un progetto tecnico legato a questo aiutato. Sì, c'è un progetto tecnico, tattico e io imparo molto anche da quello che lui dice durante la preparazione delle partite, perché leggere il gioco è sì una cosa, forse è un compito più dello staff, inizialmente, quindi più degli allenatori, ma poi in campo ci sono i giocatori, quindi certe volte, dove probabilmente l'allenatore non può arrivare, perché le situazioni che si creano in campo sono tante, è giusto che ci arrivi il giocatore stesso a capire quali sono le competenze che appunto deve assumere, piuttosto che trovare la giusta soluzione durante le azioni, durante le situazioni che si vengono a creare. Molto giovani, io sono una persona a cui piace scherzare, quindi scherzare ed essere seria, quindi con un gruppo giovane viene forse più facile. E anche il clima della società è un clima che per ora è molto tranquillo, non ci sono richieste assurde da parte della società e quindi stiamo lavorando bene, tutte insieme, con un gran tecnico, quindi tutte cose positive.